ciao a tutti ho pensato molto se fare questo video ero indecisa perché non voglio che ci siano video tristi sul mio canale e non volevo neanche che passasse il messaggio sbagliato cioè non voglio far la vittima non voglio passare per quella che non sono però poi mi sono decisa perché in effetti non tutti sanno che cosa è successo in quest'ultimo periodo ed è giusto dare comunque anche una spiegazione visto che praticamente sono sparita non ho più fatto video non ho più risposto i messaggi non ci sono più stata sui social e quindi insomma delle spiegazioni ve le dovevo dunque mio papà che è sempre stato benissimo nell'ultimo anno e mezzo si è ammalato negli ultimi mesi ha avuto una serie di ricoveri e una serie di patologie molto importanti per cui mi hanno portato a doverlo aiutare 24 ore su 24 quindi non ho più avuto il tempo di registrare video di lavorare a maglia o di rispondere ai social soprattutto negli ultimi mesi e quindi vi ho diciamo così tra virgolette abbandonato ora come molte di voi sanno purtroppo mio papà non c'è più e quindi è stato un periodo molto difficile adesso mi sto riprendendo ringrazio comunque tutte voi che mi avete supportato e mi avete mandato dei messaggi bellissimi di conforto perché so che al mondo non sono sola cioè succede a tante di voi e mi avete dato proprio anche il coraggio di affrontare questo e quindi ve ne sono grata adesso appunto mi sto riprendendo anche se è molto difficile soprattutto perché nel mio quotidiano appunto come vi dicevo c'era mio papà cioè noi abitavamo in casa insieme e quindi la mancanza si sente veramente veramente tanto ma soprattutto nel lavoro a maglia mio papà è sempre stato di supporto perché non so se sapete tutti quindi vi racconto brevemente mia nonna faceva il mio stesso lavoro e mio padre anche se ha perso mia nonna che era bambino comunque stava nella sua knitting room nel laboratorio di mia nonna e ha preso appunto le tecniche del lavoro a maglia quindi ne sapeva veramente veramente tanto anche se poi a maglia lavorava chiaramente ben poco però è sempre stato di supporto è sempre stato molto interessato a quello che facevo interessato ai filati insomma era parte integrante anche del mio lavoro a maglia e quindi riprendere il lavoro per me è più difficile perché se di lavoro io facessi qualcosa che non c'entrasse con lui forse anzi sarebbe diciamo così non di svago per la mente però la mente concentrata su qualche cos'altro ecco non andrebbe a pensare sempre la stessa cosa invece per me purtroppo entrare qui dentro o comunque riprendere il lavoro a maglia mi fa pensare a lui e quindi per questo per me è difficile riprendere a lavorare però adesso secondo me appunto è arrivato il momento già ce l'ho fatta a venire qui a sistemare tutte le cose insomma penso di riuscire però vi chiedo un pochino ancora di pazienza perché non è detto che io riesca a lavorare tutti i giorni come prima tutto il giorno per creare nuovi contenuti per fare corsi perché purtroppo ho una famiglia da rimettere assieme poiché mia figlia era tanto tanto legata al nonno e quindi è quella che forse ci sta soffrendo di più e che non comprende il perché è successo questo e poi come purtroppo alcune di voi sanno quando succedono queste cose ci si ritrova in un vortice di documenti di una serie di incombenze da fare di atti di successione di documenti da trovare che veramente porta via un sacco di tempo soprattutto per me perché non ero preparata a questo mio papà ha sempre gestito le cose lui le sue cose se le gestiva lui io non ero partecipe in questa cosa e quindi veramente non so dove trovarli non so non so gli affari suoi diciamo così e quindi per me è un po' difficile perché poi non avendo né fratelli né sorelle è chiaro che non posso chiedere a qualcun altro se sapeva qualcosa in più di quello che che so io chiaro succede a tutti tutti ci passano purtroppo la vita è questa però ecco vi chiedo un pochino di pazienza ancora anche se ve l'ho chiesto veramente tante volte se poi non sarò magari super regolare nelle pubblicazioni o non vi risponderò subito ai commenti o comunque i vostri messaggi quindi nei prossimi giorni cercherò di fare il calendario delle pubblicazioni dei tutorial quindi il calendario dei progetti farò l'ordine dei filati poi se volete vi faccio anche l'unboxing di questo nuovo ordine perché chiaramente sta arrivando la stagione primaverile estiva e io essendo mancata per l'ultimo pezzo diciamo così dell'invernale ho fatto saltare quei progetti che sicuramente vi riproporrò magari l'anno prossimo perché alcuni erano delle vostre richieste e passiamo direttamente ecco all'estivo primaverile quindi andiamo avanti in questo senso riaprirò la knitting room per i corsi e spero di riuscire a smaltire i tantissimi messaggi di aiuto di richieste, di consigli che mi avete mandato sotto i video diciamo così precedenti i video vecchi a cui io appunto come vi dicevo non sono riuscita a rispondere vi ringrazio veramente veramente tanto per il vostro supporto sapete io quando parlo in realtà alla videocamera è come se parlassi a tutte voi al gruppo di amiche e in effetti questo lavoro o comunque i tutorial lo stare su youtube e sui social mi ha portato a conoscere realmente alcune di voi e a creare veramente delle forti amicizie che anche in questo periodo mi hanno aiutato tantissimo e quindi ringrazio soprattutto la Tati che da lontano sia lei che la sua famiglia a suo marito mi hanno aiutato non solo moralmente ma anche proprio nella pratica ecco e quindi comunque vi ringrazio di cuore tutte quante ci vediamo presto perché io da subito inizierò appunto a girare i tutorial e spero che abbiate capito il fine di questo video e che non vi abbia rattristato troppo ecco non era proprio questo la mia intenzione ma mi sentivo di dover dare delle spiegazioni perché non tutte leggono quello che io scrivo nella community quindi i messaggi di youtube ma molte fanno riferimento solo ai video e quindi ecco che volevo spiegarvelo in maniera così da essere anche più tranquilla che insomma lo sapete mi capite e soprattutto avete compreso il perché di questo mio strano atteggiamento degli ultimi mesi veramente grazie di cuore e spero di rivederci molto presto ciao grazie